Prende il via il 24 ottobre a Milano la tappa italiana dell'European Outdoor Paint Tour, la rassegna itinerante del video di avventura che tocca 9 paesi europei. 9 sono anche i film proposti, fatti di arrampicate, discese, salti in mountain bike e imprese alpinistiche. In Italia dopo Milano il tour prosegue con serata Trento, Udine, Trieste, Treviso, Brescia, Torino, Merano, Brunico, Brescanone e Bolzano.